La giunta regionale ha deliberato lo stato di emergenza dopo il nubifraggio che si è abbattuto nel Catanese. Si tratta del passaggio propedeutico affinché il governo nazionale dichiari lo stato di calamità in Sicilia. Credo che la Sicilia abbia bisogno di una legge speciale per la lotta alle frane, al dissesto idrogeologico, con circa 3 miliardi di euro. La paura che gli effetti devastanti del maltempo possano già ripetersi nelle prossime ore rende necessario un potenziamento di uomini e mezzi per affronteggiare l'emergenza. Militari dell'esercito sono intervenuti intanto per la messa in sicurezza di Scordia, il paese della piana di Catania tra i più colpiti dal nubifraggio. Pensiamo che quei 600 mm che sono stati registrati in alcuni casi siano molto chiari rispetto all'impatto che c'è stato sul territorio. I danni, è evidente che impatti così importanti ci sono e saranno credo anche rilevanti, però sì, in questo momento non mi azzarderei né a cifre né a altre valutazioni. Ci attendiamo da giovedì, venerdì, un peggioramento sensibile. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha firmato un'ordinanza per i prossimi due giorni. Saranno chiuse le scuole, le attività commerciali non essenziali e in sinergia con il prefetto ritengo anche gli uffici. Per quanto riguarda ovviamente il Comune di Catania, poi saranno gli altri sindaci a fare le opportune valutazioni, ma l'intendimento è quello di immaginare misure assolutamente omogenee.